Salve a tutti, oggi vi farò vedere come si apre una bottiglia di vino. Prendiamo la bottiglia, diamo una certa inclinazione, sempre con l'etichetta rivolta in avanti, verso il pubblico e apriamo, prima da un lato, poi dall'altro. Teniamo via la capsula, chiudiamo, centriamo per bene il tappo e apriamo, sempre con l'etichetta in avanti, non lo portiamo fino in fondo, non lo portiamo fino in fondo, come potete vedere, teniamo via una prima parte del tappo, dopodiché portiamo fino in fondo e apriamo. Ok, perfetto.